L'Italia ricorda la strage di Capaci. Sono trascorsi 30 anni dall'attentato mafioso che uccise Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e i tre membri della scorta. Commemorazione a Palermo con il presidente Mattarella. Un incontro di due ore in Vaticano con Papa Francesco dà avvio alla 76esima Assemblea Generale della CEI. I vescovi chiamati tra l'altro a individuare una terna di tre nomi da sottoporre al pontefice per la scelta del nuovo presidente. Condannato all'ergastolo per crimini di guerra il soldato russo prigioniero dell'Ucraina mentre Mosca vuole processare i combattenti del battaglione Asov catturati ma la Russia si dice pronta a riaprire i colloqui e accento all'offensiva nel Donbass. Il covid allarga la forbice sociale con la ricchezza sempre più concentrata nelle mani di pochi miliardari. Milioni di persone anche nel nostro paese hanno visto invece peggiorare le loro condizioni economiche. Buonasera e benvenuti al TG2000. A 30 anni dalla strage di Capaci è stata una giornata segnata dalla memoria e dalla commozione del paese per il tributo e l'esempio di Giovanni Falcone. Tra poco la riviveremo ma oggi ha preso avvio anche un appuntamento importante per la Chiesa italiana con l'incontro tra Papa Francesco e i vescovi. Si è aperta l'Assemblea Generale della CEI chiamata a disegnare le rotte dell'impegno ecclesiale per i prossimi anni. Sentiamo Paolo Fucili. I vescovi italiani domandano, il Papa risponde, per due ore fitte di conversazione. È iniziata così oggi in Vaticano l'Assemblea della Conferenza Episcopale Italiana dietro le porte chiuse dell'Aula Nervi. I temi spassiano dalla vita della Chiesa il cammino sinodale anzitutto all'attualità internazionale, la guerra in Ucraina, le prospettive incerte della pace, l'emergenza profughi che ha toccato anche l'Italia. Poi l'elezione dei trenomi domattina da proporre a Francesco perché elegga il nuovo presidente dei vescovi italiani, secondo la procedura riformata otto anni fa, già utilizzata per eleggere il presidente uscente Cardinal Bassetti, prossimo a lasciare per motive di età anche l'incarico di arcivescovo di Perugia. A fine pomeriggio trasferimento in Pullman a Fiumicino, all'hotel nei pressi dell'aeroporto, dove da domani proseguiranno i lavori assembleari. Prevista anche l'elezione con voto assembleare del vicepresidente dell'area sud e dal dopo pandemia che l'Assemblea prevede lavori e pernottamento nello stesso luogo, condividendo tutto il tempo utile per confrontarsi su temi anche spinosi come il contrasto agli abusi sessuali nella chiesa. Altro punto all'ordine del giorno per comunicazioni del Servizio Nazionale per la tutela dei minori. Falcone e Borsellino ci hanno dimostrato che la mafia non è imbattibile, così il presidente Mattarella a Palermo per commemorare il trentesimo anniversario della strage di Capaci. Sentiamo Massimiliano Cocchi. I nomi delle vittime delle stragi e poi le note del silenzio suonate alle 17.58, l'ora esatta in cui 30 anni fa 500 kg di tritolo squarciarono l'autostrada Trapani-Palermo all'altezza di Capaci. È il momento più emozionante di questa giornata che si chiude davanti a quella che era la casa di Giovanni Falcone e Francesca Morvillo e dove adesso c'è l'albero che raccoglie lettere e dediche che da trent'anni palermitani, ma non solo, continuano a deporre i suoi piedi. Ci sono migliaia di persone, moltissimi ragazzi, quelli davanti ai quali in mattinata il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, aveva ricordato come l'Italia seppe reagire ad uno dei momenti più difficili della sua storia. Il dolore e lo sgomento di quei giorni diventano la drammatica occasione per reagire al violento attacco serrato dalla mafia. A quella ferocia la nostra democrazia si oppose con la forza degli strumenti dello Stato di diritto. Eravamo in ginocchio, abbiamo rialzato la testa, dice orgogliosa Maria Falcone, ragazzi che sono arrivati da tutta Italia con i loro lenzuoli colorati per dire no alla mafia. Molto è cambiato rispetto a trent'anni fa, conferma Giuseppe Aiala, collega e amico di Giovanni Falcone. Vedo una bella mobilitazione delle scuole che li forma tenendo presente quanto sia importante la storia, la geografia, la matematica ma anche il senso del rispetto del regolo che è la vera forza di una democrazia. Quindi guardiamo a loro che è il nostro futuro, molti di loro saranno la classe dirigente e qualche speranza la possiamo coltivare. È il 23 maggio 1992. Cosa Nostra fa sobbalzare un intero tratto dell'autostrada che collega all'aeroporto di Punta Raisi a Palermo uccidendo con 500 kg di tritolo Falcone, sua moglie e tre uomini della scorta. È il servizio di Pierluigi Vito. Il fatto che è verificato un po' prima dell'unico di Capaci c'è tutto il terreno svendrato. Il terreno svendrato vi do notizia appena possibile perché i feriti lo stanno portando lì a questo momento. I primi, tra soccorritori e investigatori, a Corsi il 23 maggio del 1992, stentavano a credere ai loro occhi di fronte allo spettacolo straziante dell'attentatuni, come lo chiamavano nel gergo di Cosa Nostra. 500 kg di tritolo per far esplodere l'autostrada tra Palermo e l'aeroporto di Punta Raisi e uccidere il giudice Giovanni Falcone. Con lui muoiono per mano della mafia la moglie Francesca Morvillo e gli agenti Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani. La vendetta per il lavoro di un magistrato che aveva introdotto nel pool antimafia di Palermo, la lezione imparata e la collaborazione investigativa con colleghi americani. Per contrastare le cosche era necessario basarsi anche su indagini patrimoniali, seguire i soldi. I risultati raggiunti, in particolare il successo del maxiprocesso degli anni Ottanta contro i vertici di Cosa Nostra, costituirono la condanna a morte per Falcone, un attacco allo Stato, alla legalità, alla speranza. Eppure tutto quel sangue versato alimentò la voglia di riscatto di una terra martoriata. Da quel boato e dal successivo in Via d'Amelio, a Palermo, dove due mesi dopo un'altra bomba di mafia uccise Paolo Borsellino e i poliziotti della scorta, nacque un rinnovato impegno dei siciliani e dell'Italia intera in una lotta serrata alla criminalità organizzata. La memoria di quella strage resta scolpita nel ricordo di molti. Come ci racconta il prefetto Franco Gabrielli, già capo della polizia, e oggi sottosegretario con delega alla sicurezza, intervistato da Augusto Cantelmi. Sentiamo. Prefetto, il sacrificio di Falcone, il sacrificio di Borsellino, di Francesca Morvillo, degli agenti della scorta, a 30 anni è servito a qualcosa? Beh, direi proprio di sì. Direi di sì, anche perché lo shock che ne derivò rappresentò l'occasione perché l'intero paese prendesse coscienza del fenomeno malavitoso della criminalità organizzata e del pericolo che ne derivava. Non che non ci fossero stati omicidi, omicidi eccellenti, erano già stati uccisi magistrati, giornalisti, sacerdoti e quindi chi voleva capire avrebbe avuto la possibilità di comprendere. Ma quelle due date, il 23 di maggio e il 19 di luglio, stabilirono veramente uno spartiacque, anche e soprattutto nella coscienza del paese. Falcone e Borsellino che cosa hanno dato? Beh, intanto un grande insegnamento, perché al di là di quello che hanno rappresentato da un punto di vista della capacità di istruire processi, di perseguire le verità processuali, hanno insegnato ad ogni servitore dello Stato che prima di tutto viene la legge, prima di tutto vengono il rispetto dei valori democratici, del rispetto degli altri e per questi valori e per questi principi si può anche morire. E la cosa che mi fa più piacere è che negli anni in cui sono stato al vertice della Polizia di Stato, la cosa sulla quale mi sono sempre più battuto è quello che queste persone non fossero riassunte in un sostantivo, la scorta, ma che fossero ricordati con i loro nomi, Vincenzo, Antonio, Walter, Emanuela, pensando che c'è stato qualcuno prima di noi che non solo ci ha insegnato una strada, ma soprattutto ci ha insegnato il modo di percorrere. La guerra in Ucraina tra processi e battaglie con Letizia Tavoli. A 89 giorni dall'invasione russa dell'Ucraina è arrivato il primo processo e la prima condanna per crimini di guerra. La sentenza è l'ergastolo, prigione a vita per un giovanissimo soldato russo di appena 22 anni che ha ucciso un 62enne disarmato. L'avvocato ha annunciato il ricorso, ma la macchina delle ritorsioni intanto si è già messa in moto. La Russia processerà a sua volta Mariupol, i prigionieri del battaglione Azov, arresi agli invasori dopo tre mesi di guerra. Guerra che ormai si concentra nel Donbass, in particolare a Severodonetsk, nella regione orientale di Lugansk, dove i russi stanno facendo terra bruciata, distruggendo deliberatamente la città. Lo denuncia il governatore regionale, secondo cui Mosca sta riposizionando lì le forze che si sono riterate dalla regione di Kharkiv, altre coinvolte nell'assedio di Mariupol, le milizie separatiste filorusse e perfino le truppe appena mobilitate dalla Siberia per concentrarsi nell'est dell'Ucraina. Secondo il governatore, i russi avrebbero distrutto tutti i ponti tranne uno, tagliando fuori quasi completamente la città. Sul fronte russo intanto, fonti dell'intelligence ucraina, fanno trappelare voci di un fallito attentato a Putin. Sarebbe avvenuto due mesi fa, all'inizio del conflitto. Nel frattempo il presidente americano Biden apre un caso con la Cina. Sentiamo Antonio Soviero. Tensione altissima tra Cina e Stati Uniti dopo che Joe Biden, da Tokyo, ha minacciato un intervento armato se Pechino dovesse invadere Taiwan. Poco fa è arrivata una correzione alle parole del presidente statunitense da parte del capo del Pentagono. La politica americana sull'unica Cina non è cambiata. Detto Austin, il presidente ha sottolineato il nostro impegno a fornire a Taiwan i mezzi per difendersi, ma non è bastato a placare Pechino. Gli Stati Uniti stanno giocando col fuoco, usando la carta Taiwan per contenere la Cina e ne resteranno bruciati, ha affermato il portavoce dell'Ufficio per gli affari di Taiwan e del governo cinese. Alle parole forti di Biden aveva replicato a caldo il portavoce del Ministero degli Esteri di Pechino, il quale aveva monito «Difenderemo i nostri interessi su Taiwan». Da anni nei confronti dell'isola indipendente, non per Pechino che la considera una sua provincia, gli Stati Uniti seguono un approccio definito di ambiguità strategica. In sostanza Washington non ha mai specificato cosa avrebbe fatto in caso di invasione della Cina. Il presidente USA in Giappone ha presentato l'Indo-Pacific Economic Framework, un piano per rafforzare la presenza commerciale americana nel Pacifico e contenere quella cinese. Biden ha parlato anche della crisi ucraina, la Russia deve pagare un prezzo di lungo termine, ha detto il presidente statunitense, mentre il suo capo dello Stato Maggiore Congiunto Mark Milley ha affermato che al momento non c'è alcun piano per rinviare truppe speciali a protezione dell'ambasciata americana Kiev, replicando così a delle voci diffuse oggi sui media statunitensi. E a Kiev le giornate trascorrono nei continui allarmi aerei e nell'assistenza delle prime necessità alla popolazione, come avviene in una parrocchia della capitale. Il servizio dell'inviato Vito De Torre. La guerra mi ha trovato qua in parrocchia, alle 5 del mattino sveglia con le bombe. Nella chiesa dell'assunzione della Vergine Maria, zona est di Kiev, i sacerdoti sono sempre rimasti accanto ai loro parrocchiani, nonostante i bombardamenti e l'angoscia di questi giorni. Dicevo signore ti ringrazio per tutto, ora sto qua dove tu vuoi e fa lo che vuoi tu con me. Sono disposto anche a morire, eccomi, sono tuo. La parrocchia accoglie anche i profughi dall'est dell'Ucraina dove infuriano i combattimenti. Sanno che qui riceveranno un aiuto concreto e anche una parola di conforto. Esattamente sotto all'altare si trova il rifugio. Quando suonano le sirene qui si riempie di persone. Questo si può dire che è il posto più sicuro, più sicuro di tutta la chiesa, no? Perché di quella parte lì dietro stiamo sottoterra, no? La costruzione qua è anche abbastanza forte. Tutto in cemento armato e quindi è più sicuro? Sì, sì, è così. Qui sotto non ho paura, siamo nella casa del Signore. So che non può accadere nulla a me e ai miei figli. Provo una serenità che solo la fede può dare. Tanti aiuti umanitari sono arrivati dall'Italia. Cibo, vestiti, medicine. Durante tutto il giorno arriva chi ha bisogno e chiede qualcosa. Grazie a Dio ci sono questi sacerdoti che mi aiutano. Con l'inizio della guerra ho perso il lavoro. Ho una bimba di sei mesi e non ho soldi per andare avanti. Prego solo che arrivi presto la pace. Cerimonia a Roma per introdurre nell'altare dei nuovi martiri africani, nella basilica di San Bartolomeo, l'isola Isandali, le vesti e la croce pettorale di sua regina e sua armeri, uccise in Sud Sudan il 16 agosto 2021. Le due religiose, appartenenti alla congregazione diocesana della Sacred Earth Sisters della famiglia Comboniana, sono state colpite a morte nel corso di un agguato al pulmino su cui viaggiavano di ritorno da una celebrazione. Una guerra assurda, queste le parole del Papa pronunciate oggi nel corso dell'udienza alla protezione civile. Cristiana Caricato. Una guerra assurda, quella tra Ucraina e Russia. La sua insensatezza è stata ribadita ancora una volta da Papa Francesco questa mattina incontrando i volontari della protezione civile in Vaticano. Ogni guerra segna una resa nei confronti della capacità umana di proteggere. Una smentita di ciò che sta scritto nei solenni impegni delle Nazioni Unite. Mai più la guerra. Il grido di Paolo VI nel Palazzo di Vetro è stato ripreso dal pontefice che ha definito sacro il diritto alla pace. Non solo il conflitto sul fronte orientale dell'Europa con l'emergenza profughi, anche i drammatici mesi di pandemia sono stati evocati da Papa Francesco che ha ringraziato i volontari per l'assistenza umanitaria fornita a vittime di bombe come del virus. Grazie per quello che avete fatto e che continuate a fare nel silenzio. Il bene non fa rumore, ma costruisce il mondo. Tra il bene fatto anche la protezione delle persone più fragili ed esposta e poi l'impegno nella tutela del creato. La cura del territorio e la risposta al grido della terra depredata da egoismi e interessi. Infine l'elogio del vero tesoro italiano, il volontariato. Scende ancora il tasso di positività, ma secondo gli esperti non bisogna ancora abbassare la guardia. Le conseguenze economiche della pandemia rivelano delle sorprese. Sentiamo Luciano Piscaglia. 573 nuovi miliardari in due anni di pandemia, uno ogni 30 ore. Ma ogni 33 ore un milione di persone rischia di scivolare sotto la soglia di povertà e in questo 2022 potrebbero essere 263 milioni. In apertura del forum di Davos, l'Oxfam, l'organizzazione internazionale contro le diseguaglianze, lancia l'allarme. La pandemia ha esacerbato le diseguaglianze esistenti, con la ricchezza sempre più concentrata nelle mani di pochi miliardari, mentre milioni di persone, anche nel nostro paese, hanno visto peggiorare le loro condizioni economiche. Siccome siamo dalla parte fortunata del mondo, sopravvivremo un po' più poveri. Mio padre è un piccolo imprenditore, quindi chiaramente le chiusure hanno pesato. Ma mio marito ha appena preso la patente per il taxi e dato il Covid si è bloccato subito. Qualcosa avevamo da parte e abbiamo usato quelli lì. Io ho voglia di lavorare ma non si trova lavoro. Questo penso che sia la parte più brutta della pandemia. E quattro risparmi erano accumulati nel corso di una vita, che mi basteranno per quei pochi anni che restano. Nel ricco non è povero, stabile, forse un po' più povero. Si rinuncia a tante cose. Adesso poi ci sono le bollette, chiaramente ci ha lasciato veramente male. Sono soprattutto gli italiani a trainare la ripresa del turismo nel nostro paese, dopo lo stop imposto dalla pandemia. È l'Italia dei piccoli borghi, delle capitali storiche e dei parchi naturali a risultare maggiormente attrattiva. È quanto emerge dalla ricerca comunicazione media e turismo realizzata dal centro di ricerca sulla televisione e gli audiovisivi dell'Università Cattolica. Negli ultimi 12 mesi, oltre un turista italiano su 5, si è recato in regioni e territori d'Italia che non aveva mai visitato in precedenza. Un anno fa la tragedia del Mottarone, la funivia volata giù dalle Alpi Piemontesi che causò la morte di 14 persone che ancora aspettano giustizia. Caterina Dall'Olio. 14 rose bianiche, una per ciascuno di loro. Da oggi c'è una lapide nei boschi di Stresa che ricorda le 14 vittime della tragedia del Mottarone. Oggi è il momento solo del silenzio, della vicinanza a queste famiglie che hanno avuto un grandissimo coraggio a venire qui. Familiari non tutti presenti alle cerimonie civile e religiosa alla chiesa della Madonna della Neve. Noi siamo stati lasciati veramente soli. nessuno ci è stato vicino, nessuno. Il 23 maggio 2021, ore 12 e 30 circa, la cabina numero 3 dell'impianto di risalita che da Stresa sulle rive del Lago Maggiore conduce alla vetta del Mottarone precipitava rovinosamente al suolo distruggendosi. La fune che la trainava si spezzò a un passo dall'arrivo nella stazione di Monte. Nell'incidente morirono in 14 una famiglia di origine israeliana di 5 persone e 9 italiani. L'unico sopravvissuto a Itambiran era il figlio maggiore della giovane coppia israeliana che viveva da anni a Pavia. Il bimbo è stato poi al centro di un contenzioso internazionale prima che un giudice israeliano stabilisse l'affido presso i nonni che vivono in Italia. L'inchiesta che deve accertare le responsabilità del disastro non si è ancora chiusa aperta per omicidio colposo plurimo e lesioni colpose dovrebbe concludersi nelle prossime settimane. L'ipotesi dominante su cui si basa la procura di Verbagna è che siano stati volutamente inseriti dei forchettoni per bloccare il freno sulla cabina ed evitare blocchi continui. I principali protagonisti dell'inchiesta sono il gestore dell'impianto il direttore di esercizio della funivia e capo servizio. È tutto per questa sera grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata. Arrivederci.